Nella sceneggiatura avevamo scritto questo dialogo in cui due protagonisti parlano dell'afide e della formica come esempio appunto di simbiosi tra gli insetti, quindi due organismi che traggono beneficio l'uno dall'altro e avevamo preso questa metafora come per rappresentare il rapporto tra i protagonisti del film. Da Fatima ho imparato a parlare quando ho un bisogno perché io sono una persona spesso molto ansiosa, tendo a non dire quello di cui ho bisogno, lei invece si fa rispettare e quindi questa cosa qui di semplicemente parlare per sé, la sua tierezza, il suo orgoglio, tutto questo qui mi aiuta ancora e devo dire che quando sono in difficoltà penso un attimino a lei. Che esperienza è stata, ecco, che mondo hai trovato e che cosa hai scoperto in questo film? Ci raccontava di questo suo essere calabrese nonostante, diciamo, lei lo diceva, rappresentava così il suo essere calabrese e marocchina se non sbaglio, sempre con un sorriso e con grande orgoglio e con grande naturalezza. Sono di questa parte del mondo o di quella? Poco importa, importa quello che sono.